Amica mia, amica mia! Finalmente unite, che ci divertiamo un po'! Ma scusa, ma perché ci sono i ragazzi domenicali indietro? Nel buio dietro le nuvole, c'è un temporale della Madonna! Ma c'ha il psicofarm, ma ci disegnate nella giacca del caso? C'ha la pillola, sono antibiotici! I'm never alone! Non sono mai sola! Mai sola! Ti vedo! I feel you, scommetto! Io non so un cazzo, com'è? Quando sono con te adesso... Meno male che avete evitato la Cocciari, perché sennò sarei stata pulita! Non conoscevo il testo, ragazzi! Non avrei capito un cazzo del testo, meno male che ci aveste visto lungo! Meno male! Meno male! Sai che questa povera giovane, da quando è iniziata il Sfator, è tutta una neve che ormai andrà a casa con un raffreddore della Over, del Top, perché è nevica sempre! E subito Uomini e Donne, cos'è questa roba? Oh ragazzi, domenica I, Uomini e Donne, ma eravamo un programma così, mi sospettiranno dal dolore, mi sospettiranno! Che se raggiungiamo un milione di visualizzazioni in un giorno, faremo l'esibizione alla finale? Nudi! Ma come premio o punizione? Questo non l'abbiamo ancora capito! Per tutte e due! No way till we'll begin! Hanno tolto dall'acido i ballerini! Complimenti Joe! In armonia la stima del cittadino! E' certo! Andando avanti al prossimo passo, che sarebbe la finale di...